Giornata del medico e assemblea dell'ordine professionale oggi a Bolzano. Nella sede di Via Volta, alla presenza anche dell'assessore provinciale competente Marta Stoccher, il presidente Michele Conberlato ha tenuto una relazione incentrata sulla riorganizzazione sanitaria in atto in Alto Adige che ha detto deve trovare il più ampio consenso e convergere su un solo obiettivo, quello, ha detto Conberlato, di arrivare a creare una nuova azienda sanitaria più forte e valida. È evidente che il nostro sistema sanitario provinciale segna un po' il passo, ha bisogno di essere ristrutturato e ridefinito nella progettualità e anche nell'applicazione di nuovi percorsi e protocolli e quindi noi guardiamo con estama fiducia il lavoro che viene messo in campo in queste fasi dall'assessorato dell'azienda sanitaria. L'Ordine dei Medici si è detto assicurerà la massima collaborazione alla politica e al nuovo direttore dell'azienda sanitaria Thomas Schell che ha evidenziato il presidente dell'Ordine ha dato un'impronta di deciso rinnovamento all'azienda stessa. Conberlato ha chiesto che la categoria possa essere esentata da tutta una serie di obblighi amministrativi pressoché inutili, citando inoltre sul fronte dell'attenzione alle risorse uno studio pubblicato tre anni fa negli Stati Uniti secondo il quale il 30% degli esami, degli interventi e delle terapie sono inutili e la loro eliminazione garantirebbe una più adeguata assistenza a tutti i cittadini. I fari in Alto Adige comunque rimangono puntati sull'esigenza di rinnovamento anche in chiave di un necessario restyling del piano sanitario. Il nostro piano sanitario è uno dei più vecchi d'Italia, lì sarà 2000 ed è ovvio che in questi anni molte cose sono cambiate quindi pensiamo anche qui che la categoria medica possa dare un contributo importante per la definizione di un nuovo piano sanitario efficiente ed economicamente sostenibile.